Allora, prendiamo i pomodorini, tagliamo, li appoggiamo su una teglia da carta da forno, mettendo la parte tagliata verso l'alto. Allora, ora che abbiamo tagliato tutti i pomodorini metteremo un bel pochino di sale, vedete che è cascato praticamente, quasi tutto a terra. Un pochettino di zucchero. Questo è uno dei miei tesori, è origano selvatico. Un po' approfumatissimo. E poi questo qui. È un mix di spezie. Ok. Metto anche le puntine della mia menta, del mio giardino, del mio balcone. Ok. E niente, ora le informerò a 140 gradi per circa due ore e ci vediamo tra un bel po'. Vi ero a dimenticare di metterci un filino d'olio. Uh, vabbè. Fatto un po' di disastro. Ok. Ora, a tra poco. Ecco qui i pomodori confit finiti. Dopo due ore e dieci minuti all'incerca, questo è il risultato. Vi ero a tre un po' di volte. Tutto un po' di